Sicuramente è fondamentale per la buona riuscita di un'opera di architettura che ci sia una buona domanda e quindi assolutamente un buon committente che sappia innanzitutto impostare bene la domanda affinché poi l'opera sia riempita dei contenuti dal progettista. Quindi direi che il committente è tanto importante quanto l'architetto. Nello specifico del Master abbiamo avuto un committente molto speciale che non solo ha capito il progetto ma ci ha stimolato a fare se era possibile di più e meglio. Quindi è un caso abbastanza fortuito di un committente molto allineato con le scelte anche perché ci aveva scelto sulla base di un concorso e quindi ovviamente aveva scelto il progetto che preferiva.